Musica Crack al San Nazaro scatta il sequestro nel mirino le quote della società che gestisce il teatro l'accusa banca rotta fraudolenta sigilia le attrezzature utilizzate dalle compagnie danni ai creditori per un milione e mezzo di euro le indagini iniziate due anni fa Pompei ancora una scoperta nuova sorpresa negli scavi della Regio Quinta un'iscrizione a Carboncino supporta la teoria che la data dell'eruzione fosse ad ottobre e non ad agosto il ministro Bonisoli scoperta straordinaria Sanità Di Maio blocca De Luca commissario decreto fiscale spunta lo stop al doppio incarico per il governatore che è anche commissario alla sanità la norma è stata fortemente voluta dal leader 5 Stelle che ammette l'abbiamo fatta per fermare De Luca morto a 19 anni un corteo per Matteo la tragedia del giovane di Chiusano San Domenico in Irpinia sconvolte gli amici di scuola del liceo scientifico Mancini che domani scenderanno in piazza ad Avellino per ricordarlo il sindaco di Chiusano proclama il lutto cittadino Blitz antidroga Salvini grazie polizia al ministro dell'interno è intervenuto sull'operazione effettuata nel Salernitano contro il traffico di stupefacenti eseguite 14 misure cautelari nell'agro nocerino sarnese riflessi anche sulla gestione del mercato del pesce a Salerno basta degrado no al campo Roma cittadini preoccupati a Benevento nella zona di via lungo sabato per il degrado e la presenza di numerose roulotte di nomadi che hanno occupato la zona e Casa Pound espone a uno striscione di protesta e questi erano i nostri titoli buon pomeriggio ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 696 in apertura avete sentito la cronaca che oggi va a colpire una istituzione della cultura napoletana e campana il teatro San Nazaro di Via Chiaia la guardia di finanza ha messo i sigilli a tutto il materiale da palcoscenico e ha indagato i proprietari per bancarotta fraudolenta sentiamo guai giudiziari per il teatro San Nazaro storica struttura di Via Chiaia a Napoli nel mirino della guardia di finanza di Nola le quote della società Esmeralda subentrata nella gestione del teatro dopo svariate cessioni dopo il dichiarato fallimento della società Lama Inge il provvedimento giudiziario scaturisce da un'indagine che ha portato alla luce la bancarotta fraudolenta in relazione proprio alla SRL fallita nel 2016 come da sentenza del tribunale di Nola dalle indagini è emerso che la compagine societaria composta da soggetti legati da rapporti familiari per sottrarre ai creditori l'azienda Teatro San Nazaro ha posto in essere condotte volte a dissimulare la proprietà attraverso un susseguirsi di cessioni e acquisizioni di quote sociali si sono delineate condotte delittuosi di bancarotta fraudolenta patrimoniale documentale si legge nella nota della guardia di finanza in capo al gruppo familiare che ha continuato nella gestione del teatro San Nazaro mediante un nuovo soggetto economico la Esmeralda i militari di Nola hanno sequestrato anche attrezzi e beni utilizzati per gli spettacoli materiale da palcoscenico, macchinari, impianti, costumi, macchine elettroniche perché oggetto di condotte distrattive il danno ai creditori stimato in oltre un milione e mezzo di euro il San Nazaro è stato inaugurato nel 1874 firmato dall'architetto Fausto Nicoletti ristrutturato poi nel 1969 da Ninoveglia e Luisa Conte l'attrice la cui famiglia è ancora proprietaria della struttura e a proposito di cultura e di storia oggi è stata rivelata una scoperta importantissima che cambia la data di eruzione del Vesuvio che sarebbe avvenuta ad ottobre e non ad agosto lo ha rivelato un'iscrizione a carboncino affiorata dagli scavi di Pompei una scoperta che rivoluziona la storia succede in Campania dove la data dell'eruzione del Vesuvio cambia a slitta di qualche mese l'incredibile scoperta affiora dagli scavi di Pompei dove è stata trovata un'iscrizione a carboncino che supporta la teoria che la data dell'eruzione fosse ad ottobre e non ad agosto la scritta traccia di un momento di vita quotidiana è datata al sedicesimo giorno prima delle calende di novembre corrispondente al 17 ottobre per gli studiosi dunque è probabile che si tratti dell'ottobre del 79 dopo Cristo una settimana prima dell'eruzione che secondo le nuove ipotesi sarebbe avvenuta dunque il 24 ottobre attraverso l'attività di scavo e la ricerca emergono dati importanti come questa iscrizione possiamo dire che stiamo riscrivendo i libri di storia lo ha detto il ministro ai beni culturali Alberto Bonisoli in visita a Pompei insieme al direttore degli scavi Massimo Sanna quando facciamo ricerca il bello è che troviamo qualcosa che non cercavamo commenta Bonisoli l'iscrizione scoperta semplicemente ci aiuta a datare meglio quella che è la data della famosa eruzione non è più agosto ma ci muoviamo verso ottobre il che da un certo punto di vista ci aiuta a capire come mai qui troviamo tanti melograni e sappiamo che il melograno di solito non matura in estate ma più in avanti Bonisoli ipotizza che nel medioevo qualche ammanuenze possa essersi sbagliato a trascrivere la lettera di Plinio quella della quale si evinceva che l'eruzione del Vesuvio fosse avvenuta nel 24 agosto del 79 dopo Cristo pena dimezzata in appello da 4 anni e 4 mesi a 2 anni per il carabiniere Gianni Macchiarolo imputato per l'omicidio del 17enne del rione Traiano a Napoli Davide Bifolco ucciso da un colpo di pistola nelle concitate fasi di un inseguimento lo hanno deciso i giudici della seconda sezione della corte d'appello di Napoli due anni, solo due anni neanche se fosse stato ucciso un cane protestano i familiari del ragazzo tensioni davanti all'aula 312 del tribunale di Napoli la madre di Davide è stata colta da un malore sorretta dai parenti si è poi avviata verso l'uscita il giudice che ha emesso questa sentenza non è una madre hanno gridato i parenti di Davide mentre si avviavano verso l'uscita decreto fiscale spunta allo stop al doppio incarico per il governatore De Luca che è anche commissario ad acta per la sanità in campagna la norma è stata fortemente voluta dal leader dei 5 Stelle Luigi Di Maio quello che ha ammesso l'abbiamo fatta proprio per togliere dalle mani di De Luca la sanità in campagna, vediamo torna la norma sull'incompatibilità tra l'incarico di presidente della regione e quella di commissario alla sanità la norma introdotta una prima volta nel decreto per Genova e poi rimossa è stata ripescata nel decreto fiscale approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri uno stop che il Movimento 5 Stelle ha voluto imprimere direttamente al presidente della regione campagna, Vincenzo De Luca per stessa ammissione di Di Maio è una norma fatta per togliere le mani di De Luca dalla gestione della sanità campana, ha detto il leader del Movimento che sul piano della sanità conduce da tempo in Consiglio regionale un'aspra opposizione attraverso la capogruppo Valeria Ciarambino ed è proprio lei a lanciare le accuse più pesanti durante la sua gestione il governatore ha fatto di un delicato comparto come quello della sanità il suo personale carrozzone, dice la Ciarambino gestito distribuendo prebende e nomine senza alcun altro fine che quello di guadagnare consensi esulta anche il deputato Irpino 5 Stelle generoso Maraia con un tweet aspettiamo la firma di Mattarella per garantire il diritto alla cura anche dei cittadini campani ma non sarà solo De Luca l'unica vittima eccellente di questa norma due piccioni con una fava è il caso di dire perché con questo vincolo si va a colpire un altro presidente di regione del Partito Democratico Nicola Zingaretti, governatore del Lazio altra regione ancora sottoposta al piano di rientro per il debito sulla sanità. Per il momento De Luca non fa una piega il presidente è convinto di poter ottenere entro novembre la fuoriuscita dalla gestione commissariale ma la decisione finale spetterà comunque al Ministero della Salute ovvero alla Ministra 5 Stelle Giulia Grillo una partita non facile per la regione Campania che dovrà dimostrare di avere tutti i conti in regola e di aver raggiunto gli obiettivi prefessati sui LEA, i livelli essenziali di assistenza Ad Avellino si aspetta l'autopsia per chiarire le cause della morte del 19enne studente del liceo Mancini stroncato da un infarto domani i compagni lo ricorderanno con un corteo e un momento di raccoglimento una morte ancora inspiegabile di cui soltanto l'autopsia chiarirà cause e contorni intanto resta lo sgomento della comunità di Chiusano San Domenico e dei compagni di classe della Quinta H del liceo Mancini di Avellino che piangono la scomparsa di Matteo Repucci il 19enne stroncato da un infarto all'alba di ieri nella sede del liceo in via Ferrante si prova ad andare avanti a tornare alla normalità i compagni sono regolarmente a lezione ma intanto hanno organizzato per domani un corteo che partirà alle 9 da via De Concilis dalla vecchia sede del liceo e arriverà fino a Piazza Libertà dove ci sarà un momento di raccoglimento per Matteo e iniziative ancora da definire siamo tutti in lutto per questa tragedia siamo sconvolti ha commentato la preside Agnes la scuola si stringe intorno al dolore dei familiari non si esclude che alla base della morte possano esserci malattie congenite tutto sarà chiarito dall'esame autoptico nel pomeriggio di domenica Matteo aveva partecipato a una partita di calcetto con gli amici al ritorno a casa i primi dolori al braccio e a una gamba nulla di preoccupante fino a quel momento poi nella notte sono diventati più forti fino alla corsa al Moscati dove la situazione è precipitata intanto il sindaco di Chiusano Carmine De Angelis ha annunciato il lutto cittadino e su Facebook dopo aver appreso la notizia ha scritto citando Sant'Agostino coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti sono solo degli invisibili tengono i loro occhi pieni di gloria puntati nei nostri pieni di lacrime ci ha accolto di sorpresa la cittadinanza si è stretta al dolore a famiglia come amministrazione dichiareremo appena sapremo l'esito dei funerali e dell'autopsia il lutto cittadino è un dolore immenso che non merita commenti 14 ordinanze cautelari per traffico di droga estorsione riciclaggio un poliziotto sospeso dal servizio due carabinieri trasferiti è l'esito di un maxi blitz condotto da procura e di D.A. di Salerno e sono arrivati anche i complimenti e il plauso del ministro dell'interno Salvini vediamo due indagini parallele ma distinte che hanno portato a sgominare un sodalizio criminale particolarmente esteso e che aveva ramificazioni su tutto il territorio salernitano e che poteva contare anche sulla complicità di alcuni rappresentanti infedeli delle forze dell'ordine è il quadro a tinte fosche emerso nel blitz di procura e D.A. di Salerno che ha portato all'emissione di 14 misure cautelari 11 le persone in carcere due domiciliari più un assistente capo della polizia in servizio al commissariato di Sarno sospeso dal servizio per un anno insieme a lui sono indagati anche due carabinieri in servizio a Salerno che sono stati trasferiti d'urgenza tutti sospettati di avere rapporti con le persone finite nella rete degli investigatori questa operazione si contraddistingue innanzitutto per aver confitto delle consorterie criminali che si stavano radicando sul territorio è importante perché si sono disvelate delle connivenze di appartenenti alle forze dell'ordine che sicuramente fanno male a noi perché sono persone con cui collaboriamo e fanno male alle stesse istituzioni di appartenenza il blitz si è meritato anche i complimenti del ministro dell'interno Matteo Salvini che ha elogiato il lavoro delle forze dell'ordine in carcere è finito anche Nicola Larocca considerato capo dell'organizzazione criminale che deve scontare una condanna a 14 anni per un omicidio commesso quando era minorenne le accuse contestate agli indagati a vario titolo sono di traffico di droga estorsione e riciclaggio nel mirino di procure DDA in particolare i tentacoli della criminalità sul mercato del pesce di Salerno dove si consuma una lotta tra i clan per il predominio sul territorio la potenzialità criminale di questi soggetti e di queste organizzazioni criminali che sono pronte a qualsiasi cosa a qualsiasi tipo di reato pur di conseguire i loro illeciti profitti noi monitoriamo tutti i focolai di attenzione da parte della polizia giudiziaria dove si possono sviluppare determinate attività criminali scongiurato l'allarme meningite a Solofra in provincia di Avellino dopo il ricovero di una bambina di 6 anni all'ospedale Landolfi fortunatamente la malattia non è di tipo virale e non c'è bisogno della profilassi intanto la bambina è stata trasferita al cotugno vediamo nessun allarme meningite a chiarirlo il professore Felice Annunziata primario di pediatria all'ospedale Landolfi di Solofra dove ieri è stata ricoverata una bambina di 6 anni la piccola ora è in stretta osservazione al cotugno di Napoli ma le sue condizioni fortunatamente non preoccupano è stato proprio il primario della divisione del nosocomio ad accorgersi subito che la bambina portata in ospedale dai familiari presentava i chiari sintomi della meningite immediatamente le sono state prestate le prime cure poi alla luce della gravità è stato disposto il trasferimento d'urgenza presso la divisione di malattie infettive del cotugno ma nonostante l'urgenza non vi è alcuna preoccupazione ha sottolineato il primario mi ha telefonato il primario delle malattie infettive del cotugno per dirmi che si tratta di una meningite ma non è identificato il germe per cui non è sicuramente meningococcica e quindi non è diffusiva quindi non c'è l'obbligo non c'è la necessità più che l'obbligo c'è la necessità di fare profilassi è una meningite non tutte le meningite sono meningococciche né diffusive quindi l'unica meningite che necessita obbligatoriamente della prevenzione per i contatti del contagio è quella di tipo meningococcica al momento che non si tratta di una meningite meningococcica non va fatta profilassi non bisogna fare allarmismi ha poi detto Nunziata ma è chiaro che noi medici dobbiamo fare in modo di diffondere quanto è più possibile la cultura delle vaccinazioni e superare dei vecchi tabù quando si è vaccinati comunque abbiamo un'arma in più per combattere l'insorgere della meningite test di accesso falsati all'università di Salerno indagate 9 persone 3 studenti 2 di medicina e 1 di farmacia dei genitori e un dipendente dell'Ateneo sarebbero colpevoli per la procura di nocere inferiore e di violazione del sistema informatico falso abuso d'ufficio in concorso e truffa e la notizia e lo scandalo arriva proprio nel giorno in cui si rende noto che con la manovra finanziaria saranno cancellati i test di accesso alle facoltà di medicina vediamo test di accesso falsati all'università degli studi di Salerno violazione del sistema informatico falso abuso d'ufficio in concorso e truffa questa è le ipotesi di reato contestate a vario titolo a 9 persone nell'ambito di un'inchiesta riguardante la falsificazione di alcuni dati da parte di tre studenti del campus universitario salernitano due di medicina e uno di farmacia le indagini sono partite da una segnalazione degli uffici amministrativi dell'Ateneo che hanno portato all'attenzione della procura della Repubblica di nocere inferiore competente per territorio delle anomalie in azione quindi carabinieri della sezione polizia giudiziaria messe a setaccio banche date e documenti d'esame gli atti sono poi stati trasferiti alla procura distrettuale antimafia di Salerno competente per reati come l'accesso abusivo ai sistemi informatici il lavoro degli inquirenti si concentra su alcuni accessi alle facoltà numero chiuso di medicina e farmacia gli allievi risultavano iscritti senza mai aver concluso positivamente le prove d'ammissione previste inoltre nei sistemi informatici dell'università risultava che avessero anche acquisito dei crediti formativi per prove ed esami non sostenute erano poi in regola con il pagamento delle tasse benché non avessero mai pagato coinvolti tre giovani originari di Nocera Superiore Siano e della Calabria un funzionario amministrativo dell'università e cinque genitori la falsificazione dei dati sarebbe stata possibile con l'accesso abusivo alla banca dati web dell'Ateneo effettuato con la complicità di un dipendente dell'università a Benevento arrivano i Rom sul lungo sabato i cittadini si dicono preoccupati e Casa Pound protesta vediamo è già stato rimosso lo struscione affisso dai militanti di Casa Pound a Benevento nei pressi di via lungo sabato a ridosso delle roulotte con la scritta No al campo Rom basta degrado da tempo dichiara Pasquale Piantedosi referente beneventano di Casa Pound Italia i cittadini residenti in via lungo sabato Don Emilio Matarazzo denunciano l'insostenibile situazione venutasi a creare anni di degrado abbandono e di inciviltà hanno devastato e degradato totalmente un intero quartiere dando vita ad un sentimento di insicurezza tra i residenti abbiamo raccolto le loro voci Beh qui è pieno basta andare in fondo alla strada hanno fatto un campo Rom secondo me non è autorizzato poi ci ha fatto caso il venerdì vengono i Rom perché? perché il sabato c'è il mercato che vengono a fare Stanno laggiù Sì sul ponte qua dall'altra parte infine ora ci sono ci sono sì sì la verità non ci danno fastidio perché stanno laggiù però a volte sai noi ci mettiamo ho paura Ma c'è anche chi tra i cittadini della zona apre all'accoglienza Vabbè ma se una persona non accetta nessuno loro si deve chiudere in casa e non deve fare l'accoglienza si deve fare I residenti sono invece compatti nel denunciare l'abbandono il degrado e la mancanza di attenzione per il quartiere Quindi noi paghiamo profumatamente la spazzatura però qua non vengono mai a pulire lo facciamo noi I cittadini fanno schifo noi facciamo un po' schifo però anche l'amministrazione comunale stiamo dietro qua dove cercamo sportivo non vengono a pulire è una vita Quindi vi sentite un po' abbandonati? Un poco troppo abbandonati E c'è un piano per riqualificare anche i giardini di Piazza Kennedy ad Avellino lo ha annunciato l'assessore alle attività produttive Maura Sarno che ha parlato anche di iniziative per Centro Storico e Dogana Sentiamo Piazza Kennedy e Centro Storico il comune di Avellino accelera per riqualificare i giardini pubblici e potenziare l'illuminazione nel cuore antico della città Novità importanti per la casetta di vetro in Piazza Kennedy il primo aggiudicatario la Clams di Rocca Bascerana ha rinunciato e presto ci sarà l'affidamento alla seconda in graduatoria la Dedona Ci tengo che per Natale sia diciamo diventi quello che poi è la destinazione d'uso dell'immobile che è appunto somministrazione di bevande e alimenti avrà anche la conservazione e la manutenzione del verde pubblico avanti il che significa proprio riqualificare l'intera zona Intanto il Natale si avvicina stavolta l'amministrazione non vorrà farsi trovare impreparata come accaduto per il Ferragosto con il pasticcio del concerto di Clementino Per il Natale chiaramente abbiamo previsto una sorta di chiusura il sabato e la domenica tutta Avellino sarà rivalutata per un evento che si spera riusciamo a fare Nel frattempo potenzierà l'illuminazione tra Via Nappi e la zona del Duomo Sono state ordinate dieci lampade dieci lampade che potenzieranno tutta la zona di Via Nappi Nello stesso finanziamento rientrerà poi la zona dietro al Duomo dove c'è l'area archeologica e tutto il parco verde che viene anche lì potenziata tutta la l'illuminazione Infine una novità anche per quanto riguarda la Dogana Ho chiesto all'assessore ai lavori pubblici di mettere una sorta di panno lenzuolo che riproduce quello che poi sarà effettivamente la facciata in modo che sarà molto più accogliente anche la piazza davanti alla Dogana Andiamo a Salerno vi facciamo vedere adesso come saranno le luci d'artista di questa edizione emergono i rendering delle installazioni in quest'ore tra l'altro si stanno montando le luci nella villa comunale e spunta qualche sorpresa come una grande installazione di Nettuno in piazza Flavio Gioia Il mondo incantato delle fiabe e le fantasie ispirate agli animali ma anche richiamo alla tradizione e al territorio manca meno di un mese all'accensione ma Salerno sale sempre più l'attesa per le luci d'artista febbre dettata anche dalla curiosità perché si tratta della prima edizione curata dai francesi di Blasher Illumination che hanno preso il posto della Irene di Torino avviato il montaggio in villa comunale forse il luogo più fotografato insieme all'albero di piazza Portanova e capace di richiamare centinaia di migliaia di visitatori ogni volta finora si intravedono solo le stelle ma intanto il quotidiano crona che ha pubblicato alcuni rendering di come sarà a regime l'edizione di quest'anno di luci d'artista personaggi di fantasia e amati dai bambini ma anche una grossa novità in piazza Flavio Gioia la rotonda oltre a consueto tappeto di luci che ricoprirà l'intera piazza vedrà anche la max installazione del Dio Nettuno le anticipazioni di quello che potrà essere lo spettacolo offerto dai visitatori in arrivo a Salerno per le luci d'artista fanno presagire come sempre nasi all'enzù e migliaia di selfie foto e commenti per un evento diventato il più seguito della stagione natalizia campana anche se come si ricorderà nei giorni scorsi non erano mancate delle polemiche dopo il montaggio delle installazioni al corso raffiguranti limoni con il governatore Vincenzo De Luca che li aveva paragonati piuttosto a dei fiori di zucca mentre in questi giorni non sono mancate le ironie social su quelle che sono state subito ribattezzate limonarie d'artista schermaglie di un evento destinato in ogni caso a far discutere e ad animare il dibattito a Salerno e non solo A tre anni dall'alluvione del Sannio sono ancora molte le aziende che aspettano i rimborsi il presidente della Confcommercio Romano dice la situazione è drammatica vediamo A tre anni dall'alluvione che ha diversato il Sannio sono ancora molte o quasi tutte le aziende in difficoltà per i danni causati da fango e detriti a tracciare il bilancio il presidente della Confcommercio provinciale Nicola Romano che parla di una situazione drammatica ricordando che da subito furono molti problemi dal punto di vista burocratico tante o troppe le carte da compilare che aviglia a cui adempiere per chiedere i ristori proprio mentre si era ancora impegnati a ripolire dal fango case e attività commerciali è drammatica nel senso che i ritardi sono quelli consueti del nostro sistema purtroppo Italia che peggiorano poi nel nostro sistema campania noi abbiamo la maggior parte delle aziende senza ristoro diciamo abbiamo il 95% più o meno delle aziende molte delle quali sono state ammesse al finanziamento con il decreto del 2016 poi per una serie di cavigli ancora non hanno erogato neanche quell'anticipo che era stato previsto e così secondo Romano se da un lato c'è chi ancora attende per i ristori dall'altro c'è chi non è stato proprio ammesso nonostante i danni subiti attualmente per dare un quadro Ponticelli che era la zona più colpita su una quarantina di aziende 40-45 aziende 3 o 4 sono state ammesse al finanziamento oggi nonostante l'amarezza le difficoltà resta la necessità di far presto almeno nell'erogazione dei fondi già stanziati oggi le aziende sono consapevoli che tornare indietro è quasi impossibile quantomeno ci venisse liquidato quel poco quel poco quel minimo che all'epoca era stato era stato promesso pazienti che premiano i medici in occasione dell'Award Palliative Care 7 i professionisti eccellenti in campagna per l'assistenza ai malati terminali vediamo sono i pazienti che premiano i medici per Award Palliative Care sono state infatti attribuiti i riconoscimenti a Napoli dal presidente del consiglio regionale Rosetta D'Amelio da Sergio Canzanella presidente House Hospital e Flora Beneduce consigliere regionale i sette medici che si sono distinti per il loro impegno e per la professionalità profusa nell'erogazione di cure palliative e medicina del dolore ma noi li premiamo come istituzioni li premiano i tanti pazienti che li hanno votati dobbiamo impegnarci sempre di più perché il malato e le famiglie che vivono situazioni di grandi difficoltà dal punto di vista della salute penso ai tanti malati oncologici possono almeno vivere il fine vita avendo cure palliative e terapia del dolore che possa raggiungere tutti quelli che ne hanno bisogno i premi sono stati attribuiti ad Adilberto Favilli ASL di Terni Antonio Maddalena ASL Napoli 1 Centro Antonio Maione ASL Napoli 3 Sud Armando De Martino ASL di Salerno Carmine Lauriello ASL di Caserta Fabio Borrometi azienda ospedaliera Santo Bono Pausillipon e Geppino Genua ASL di Avellino per la prima volta un premio del genere non viene stabilito da una commissione discrezionale ma sono arrivate oltre 500 segnalazioni da tutta Italia e stamani abbiamo premiato 7 medici che giorno dopo giorno assicurano qualità e prestazioni e solidarietà fino agli ultimi istanti di fine vita A Benevento la storica casa di riposo comunale per anziani San Pasquale è stata data in gestione a dei privati con una gara d'appalto ci sono timori adesso per le sorti dei degenti ma soprattutto dei dipendenti sentiamo C'è preoccupazione a Benevento per la chiusura sia pur temporanea della storica casa di riposo per anziani di proprietà del comune che dopo due gare che erano andate deserte è riuscito finalmente ad affidarne la gestione ad una cooperativa privata che ora dovrà però effettuare dei lavori imposti dalla relazione fatta tempo fa dai carabinieri del NAS durante un'ispezione nessun problema per gli ospiti e per gli operatori sociosanitari ha assicurato l'assessore Ambrosone che questa martina ha partecipato ad una riunione presso i servizi sociali del comune gli attuali impiegati della struttura San Pasquale che cosa ne sarà? Allora credo che mai come in questa occasione non solo sono garantiti ma finalmente non andranno più ad avere un lavoro approssimativo così come dicevo prima perché la gestione è per dieci anni la società è importante è un consorzio importante nel bando abbiamo previsto la clausola di salvaguardia quindi la clausola sociale per il passaggio di cantiere così come previsto dall'articolo 37 del contratto collettivo per le società che operano nell'ambito del settore sanitario per cui hanno una garanzia notevolissima Gli anziani ospiti della struttura saranno momentaneamente trasferiti Ci siamo preoccupati anche attraverso gli operatori di poter dire loro che il loro spostamento è temporaneo perché vogliamo accoglierli e vogliamo farli vivere ancora per tantissimi anni e soprattutto una struttura più accogliente più di qualità e quindi momentaneamente per fare questo loro inevitabilmente devono spostarsi E' tutto per questa edizione grazie per averci seguito in regia Aldo Finizia adesso ci sono le previsioni del tempo arrivederci in regia Aldo Finizia per averci seguito grazie a tutti per averci seguito